Che giochetto è uscito alla direzione del Partito Democratico, le faccio sentire con quali parole e poi mi dici quali sono i commenti in rete, Aless. Vediamo? Capisco perfettamente le ragioni per le quali abbiamo deciso di fare questo passo, di fare il governo con Movimento 5 Stelle. Le ho dette, soprattutto quelle che ha indicato Matteo Renzi. Le capisco e in cuor mio io davvero mi auguro che abbiano ragione. Al contempo io non riesco a dismettere le mie convinzioni sul Movimento 5 Stelle, su quello che è successo in tutti questi anni. Sono stato il frontman di una campagna che negava qualunque possibilità di fare un accordo con Movimento 5 Stelle. Quando c'è qualcuno che è il leader, è il frontman di un'ipotesi che poi si è realizzata sbagliata, è inevitabile che quel qualcuno ne debba trarre le conseguenze. E qui arriviamo al consiglio che dovrà dare Bertino. Se la sente? No. Ne ha Renzi, ne ha Zingaresi? No, no, faccio fatica persino, malgrado la cortesia che ho nei suoi confronti, di dirle grazie, perché neanche questa mi riesce. Cioè la richiesta è di quelle che non vanno fatte? Grazie. Grazie.